La cultura come motore per la riqualificazione delle periferie. Per questo motivo una delegazione dei rappresentanti di musei e istituzioni internazionali ha fatto visita a Don Maurizio Patricello nella chiesa di San Paolo Apostolo di Caevano per un confronto su progettualità e best practice in grado di rigenerare i territori a rischio. Un momento che ha ufficialmente aperto la seconda edizione di EDI Global Forum, il progetto della Fondazione Mora Greco finanziato dalla Regione Campania che prevede dibattiti e workshop sul ruolo di musei e istituzioni culturali attive in ambito education e didattica fino a venerdì. Ascoltiamo Maurizio Mora Greco presidente dell'omonima Fondazione. Noi come Fondazione Mora Greco con il sostegno di Regione Campania abbiamo organizzato questo EDI Global Forum che è un forum che coinvolge 250 musei di tutto il mondo e specchiatamente nei dipartimenti educativi di tutti questi musei e ci sembrava doveroso nei confronti del nostro territorio portare l'attenzione su quest'area a livello internazionale, su quest'area, sulle periferie in generale quindi non necessariamente solo sul Caevano ma sulle periferie di questo territorio. L'obiettivo dell'incontro è stato quello di avviare una progettazione partecipata con un programma di iniziative pensate e create con la comunità locale attraverso un processo di ascolto, riflessione e azione che coinvolgerà artisti, musei, università, associazioni, cittadini e operatori locali ha spiegato la project manager di EDI Francesca Cocco. Don Maurizio Patricello, volto simbolo di Caevano, ha accolto con interesse la delegazione. Ascoltiamo. Qua serve tutto, qua servono persone di buona volontà, servono persone che hanno desiderio e passione per fare qualcosa di bello, per cui l'arte è importantissima, mi è piaciuto molto anche il concetto di arte per questi quartieri. Portarli là dove possono arrivare, veramente farli innamorare del bello. EDI Global Forum è un progetto di Fondazione Mora Greco con il contributo dalla Regione Campania a valere sui fondi POC Campania Fest 2014-2020, Piano Strategico Cultura e Beni Culturali, tra i partner GESA SPA, TecnoSRL, il Consolato Generale USA di Napoli e l'Università degli Studi di Napoli Federico II.